Sia lodato Gesù Cristo Ciao amici miei Eccoci qui al Vangelo di Oggi con fra Stefano Il Vangelo del Giorno venerdì 23 luglio Santa Brigida Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Preghiamo O Dio che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e nella contemplazione della passione del tuo Figlio gli hai rivelato la sapienza della croce. Concedi a noi di cercare te in ogni cosa seguendo fedelmente la tua chiamata. Per Cristo nostro Signore. Amen! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni Gloria a te o Signore In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto». Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me, e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio, e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me, e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e diventiate miei discepoli. Parola del Signore Lode a te o Cristo Io sono la vite vera, quella vera, specifica Gesù, perché ce ne sono anche di false. Tutti noi per natura cerchiamo di stare bene, è qualcosa di naturale cercare di star bene. Tutti noi desideriamo avere una vita buona, che ci dia la possibilità di portare molto frutto. A partire da questo desiderio buono, cominciano presto a nascere molte incomprensioni Cosa significa avere una vita buona? Cosa significa portare molto frutto? Corrisponde in qualche modo a quella domanda che viene posta ai bambini Cosa farai da grande? Come pensi che la tua vita sarà realizzata? In base a questo obiettivo della propria vita, una persona sceglie anche come nutrire la propria vita. Gesù ci invita oggi a rimanere uniti a lui, a non lasciarci ingannare dalle false apparenze del mondo Perché molte volte dietro le apparenze di benessere, dietro alle apparenze di successo e di autorealizzazione Si nascondono gli spettri di vite secche, di vite che non hanno portato frutto Separati da Gesù si possono fare molte cose, ma finiamo per perdere noi stessi E quando perde significato la nostra vita, anche quello per cui fatichiamo perde valore Ma quello che dice Gesù non è solo un invito a essere uniti a lui È anche una promessa, rimanendo uniti a lui portiamo molto frutto La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore Il Signore sia con voi Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen! Ti auguro una buona giornata e un carissimo saluto Do il benvenuto a chi ci segue da poco Ti invito ad iscriverti subito e attivare la campanella Così hai promemoria quando il Vangelo è disponibile E inoltre favorisci la diffusione del Vangelo Ciao ciao Abbi cura di te